Il servizio idrico c'è ma in realtà no. Siamo a Montaquila dove il sindaco Marciano Ricci, peraltro recentemente rieletto, minaccia azioni eclatanti. Andiamo a sentirlo. La questione che va avanti da oltre un anno sta assumendo i connotati di un paradosso in salsa, anzi in acqua molisana. La Grim, società di emanazione regionale, gestisce il servizio idrico integrato. Tutti i comuni del Molise sono stati chiamati ad aderire. Dunque le bollette del ruolo idrico vanno pagate proprio alla Grim. Ma c'è un ma. L'azienda non è ancora in grado di provvedere alla gestione del servizio. Allora che si fa? Ci pensano i comuni, anticipando risorse proprie per garantire in emergenza il corretto funzionamento delle reti idriche e fognarie. A richiesta di rimborso, inoltrata dagli enti e dall'azienda, nessuna risposta. A proposito di risposte, eloquente quella del sindaco Ricci. E come parlare con un muro? Pozzilli, come denunciò anche ai nostri microfoni il sindaco Stefania Passarelli, è nella medesima situazione. I bilanci dei comuni che hanno anticipato le risorse maggiori sono a rischio. Loro o due sono le cose o venunciano all'ingasso. Fin quando non rientrano noi fatturiamo e paghiamo le spese. Quanti soldi ha già speso per il servizio idrico il comune di Montaquila? Noi abbiamo un servizio idrico che è abbastanza malmesso. Abbiamo speso circa 90.000 euro. C'è lì in ginocchio, non stiamo più senza soldi. Ma un altro problema investe economicamente anche il cittadino utente. Il problema è questo. Secondo me questa società dovrebbe essere fatta la CRIM. La società mista tra privato e la CRIM. In questo modo queste adesso emettono soltanto le bollette e ingassano i soldi. E lavorano e li fanno. Io su questo mi operrò. Ho chiesto un incontro in prefettura. Per noi ci vi danno l'ingasso dell'acqua. Anche perché questa è la prima cosa che fanno. Fanno le bollette. Molto di tutto già hanno detto che l'acqua schizza. Oltre il doppio quello che il cittadino lo paga adesso. Ma i cittadini hanno i soldi dei soldi. Per me va risolto. E vado avanti. Se no me ne vado. Non ci voglio stare. Noi il comune mondaco non ci vogliamo stare.